Sono regolarmente funzionanti Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger ed Oculus scomparsi letteralmente dalla rete globale per il blackout di ieri che ha mandato nel panico milioni di utenti. Dopo sette ore di down i tecnici sono riusciti a resettare i server del data center di Santa Clara per ripristinare la rete dei social network facenti parte della galassia Zuckerberg. Il fenomeno è stato di una gravità e una impizza senza precedenti. Per Bloomberg la perdita economica a livello mondiale è stata quantificata in 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione della connessione digitale. Grazie a tutti.